Salve a tutti, sono Claudio Morici, il 9 luglio alle 22 sarò a Garbagna all'interno del Festival Borgo delle Storie. Farò il mio spettacolo che è un po' così così insomma, non è mai venuto tanto bene. Però vi dico una cosa che potrebbe interessarvi, io ogni volta che faccio un spettacolo faccio come delle performance, diciamo così, mi occupo anche di arte concessuale. Questa volta pensavo di fare questa cosa, ecco, volevo tirare poco prima te lo spieghi verso le 21.55, tirare sul pubblico degli oggetti, che ne so, macchine fotografiche da 2-3 mila euro, catenine d'oro, ho anche delle banconote da 50 euro, cioè una ventina, le butto dal pubblico e la performance consiste nel vedere se il pubblico prende questi oggetti e se li porta a casa. Quindi, performance più spettacolo, se vi interessa o lo spettacolo, insomma, è un po' così, però la performance forse potrebbe così. Vediamo se si possono portare a casa, sai, uno studio, si sa, a volte le porta, a volte lo porta, questo si interroga su queste cose nell'arte contemporanea. Ci vediamo presto. 50 euro. 20 euro. 20 euro. 20 euro.